Prugna selvatica in fiore, la fanno avvicinare, guardate quanti ce ne stanno, pieni eh, guardate che bei fiori, ci siamo qui a Luco dei Marzi, questa è la strada di Ciccompucenza, 100 metri c'è il mio terreno e qui, guardate camminiamo a piedi, va, piano piano, piano piano, questa è una strada interpoderale che ricongiunge la strada provinciale, avete visto dove è stato l'auto? C'è un'altra traversa che va qui sotto, ecco l'auto bianca, è un'altra strada, praticamente c'è, la strada variante è lì sotto, 200 metri, qui sotto a 20 metri c'è la strada Ciccompucenza, eccola qui, e qui la strada provinciale, a segnale di Caluco dei Marzi, guardate il traffico, ci avviciniamo, ci avviciniamo piano piano, e mi diamo, questo suggestivo panorama, Lucchese, ecco qui, qui c'è lo stop, un'altra auto è salita, guardate un po' che bel panorama, eh, arrivi un'auto, arrivi un'auto, la zona 8 chilometri di Marzi, ecco l'auto, un'auto, due o tre, si, comincia ad esserci teppico, a quest'ora, soprattutto qui c'è, oh, ma salutate, luco dei Marzi, la zona 8 chilometri di autostrada, il cimitero, guardiamo un po' Montevelino, quello è Montevelino, il cimitero, Monte Penna, il cimitero,